per lanciare consigli per lanciare un'agency di gestione e-commerce in caso lo spieghi in consulenza quando sarò più ricco sì allora il discorso per l'agency di commerce ragazzi è molto importante a tutti i miei studenti che stanno lucrando stanno facendo soldi e ovviamente molti lo stanno già facendo e vi dovete mettere a vendere anche servizi ok c'è un bisogno abnorme di vendita servizi lo dico anche contro i miei interessi perché io la mia agency però è un altro target e comunque ragazzi c'è posto per tutti signori c'è posto per tutti le persone non capiscono di quanto di quanta necessità ci sia nel mondo oggi di servizi per quanto riguarda le vendite online voi non avete idea non ne avete idea se voi avete risultati attraverso l'e-commerce ma anche se non li avete ma avete una capacità una capacità di cercare persone valide ok nel fare il sito shopify persone valide che sanno vendere in chat per determinati prodotti riuscite a trovare un forte media buyer che vi gestisce il traffico a pagamento trovate un buon una buona persona che vi può gestire il covi per quel determinato prodotto quella determinata nicchia voi in sostanza non sapete fare e-commerce ma potete mettere insieme le persone che poi lo fanno ragazzi steve jobs non ha creato l'apple da solo anzi è stato un progetto che anzi è uscito prendendo il progetto di un altro ma la sua bravura è stata proprio mettere insieme le persone ed è questo che dovete fare ok non per forza dovete essere voi a fare tutto anche perché tutto non riuscite a farlo io vi sfido chiunque li do cinque clienti da ventimila euro al mese ma anche uno anche due non riuscite a gestirli da solo da soli ok vi serve un team da costruire il prima possibile il prima possibile